Nicola Noviello, nella tua relazione ci hai fatto vedere più che mai quanto è vero che un'immagine vale più di mille parole però ci hai anche spiegato come alta qualità dell'immagine non vuol dire necessariamente più pixel, vuol dire una serie di cose Esattamente, un'elevata qualità d'immagine vuol dire portare più pixel all'interno di una stessa immagine sicuramente Questo è già un primo vantaggio, un altro vantaggio molto importante è ridurre il numero di telecamere necessario in un progetto perché con una sola telecamera risolvo e copro l'esigenza che normalmente è soddisfatta utilizzando diverse telecamere quindi questo si traduce chiaramente in un miglioramento della qualità e riduzione dei costi perché ovviamente una telecamera con un'elevata risoluzione costa sicuramente meno rispetto a montarne 3, 4, 5 in bassa risoluzione L'alta definizione è sicuramente un driver che sta trainando il settore però c'è alta definizione e alta definizione, soprattutto non serve sempre vedere a 20 megapixel No, esattamente, è bello raccontare quello che è il top e qual è il prodotto di eccellenza Poi questo non vuol dire che il prodotto di eccellenza sia il prodotto esatto nella totalità dei casi e in tutte le applicazioni quindi è chiaro che si cerca sempre di portare verso l'alto e quindi utilizzare prodotti di fascia più alta ma spesso è sufficiente utilizzare prodotti con un minor numero di pixel quindi 1.3, 2 piuttosto che 3 megapixel perché comunque coprono perfettamente l'esigenza e ovviamente abbassano ulteriormente i costi di gestione dell'impianto Insomma la vecchia regola funziona sempre, vendere quello che serve Exattamente Grazie